L'eccidio dei 13 martiri di Giuliano inscenato dagli studenti. Stamane nell'aula consigliare del comune la Proloca ha organizzato un momento di commemorazione dei 13 concittadini trucidati in piazza annunziata dai nazisti coinvolgendo gli studenti di varie scuole primarie e secondarie. Purtroppo però quelle vittime di 81 anni fa pare siano morte in vano visto che si continua a morire a Kiev come a Beirut come a Gaza. Mai più da Giuliano questi bambini urlano forte, mai più. Abbiamo voluto comunque con i nostri pochi mezzi, con il poco tempo a disposizione coinvolgere di nuovo i ragazzi per rappresentare 13 loro ognuno, uno dei 13 nostri martiri. E poi abbiamo voluto chiudere con questa scena della vecchia sopravvissuta tra le macerie di Giuliano dopo il bombardamento del 2-3 ottobre 43. Il sindaco Pirozzi ha ricordato la medaglia al valore civile che la città di Giuliano ha avuto proprio per l'uccisione dei 13 martiri. Ho voluto mostrare loro la medaglia d'argento al merito civile che abbiamo ottenuto come città di Giuliano in seguito a questo martirio. E soprattutto ho ricordato la data del settembre che è stata fissata come il giorno della memoria, 30 settembre, con una delibera di Consiglio Comunale. Ieri invece, dopo la Santa Messa nel Santuario dell'Annunziata, è stata deposta la corona dall'oro nel luogo dell'Ecidio. Grazie. 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 Grazie.